Dabbi la tua forza! Nuovi Gormiti Eclissi Suprema! Sono tornavo, io vi trasformerò! Ora i Gormiti sono più forti che mai! Hanno le armature d'oro! Ma Obscurio e le forze del male hanno in servo nuove minacce! Come nella serie TV, i Gormiti Eclissi Suprema ti aspettano sull'isola di Gorm! Per risplendere la luce con l'altare dell'eclissi! Trasmetti la tua energia! Gormiti Eclissi Suprema! Tagic! Gli unici originali!